Il 21 ottobre scorso l'esecutivo Abbi ha confermato Antonio Patuelli come Presidente dell'Associazione Bancaria fino al 2018 e ha nominato Eliano Omar Lodesani di Intesa San Paolo come Presidente del Comitato Affari Sindacali del Lavoro in sostituzione del dimissionario Alessandro Profumo. Di questo argomento e dello scenario delicato del settore del credito abbiamo parlato con il segretario generale della Wilka Massimo Masi. Sentiamo. Lo scorso ottobre l'esecutivo dell'Abi ha confermato alla sua presidenza Patuelli fino al 2018 con largo anticipo sette mesi prima rispetto alla scadenza naturale e poi ha nominato in sostituzione di Alessandro Profumo Lodesani di Intesa San Paolo. Sicuramente due scelte di stabilità e di continuità. Che cosa ne pensi? Certamente come ho detto in dichiarazioni queste nomine, queste conferme, anzi questa conferma di Patuelli che ha allungato il suo percorso e la nomina di Omar Lodesani credo che rientri nello stile dell'Abi cioè quello di confermare buoni rapporti sindacali, confermare nel caso di Patuelli un'ottima presidenza che c'è stata in questi anni che ha dato risalto al ruolo dell'Abi e per quanto riguarda Lodesani credo che visto anche l'esperienza acquisita in banca intesa San Paolo ci sia la possibilità di continuare questo tipo di relazioni sindacali. Vedremo e mi auguro che questo avvenga, lo valuteremo nei fatti già dai prossimi settimane cominciano gli incontri e vedremo effettivamente come l'Abi intende affrontare questo periodo di grandi trasformazioni che ci saranno ancora nel nostro settore con quale spirito, con quale volontà. Infatti un momento molto delicato quello del credito. Tra tutti spicca la notizia di ulteriori esuberi in Unicredit. L'11 ci sarà la presentazione del piano industriale. Certo, siamo molto preoccupati di questa vicenda perché subito dopo l'usita di Deutsche Bank con le sue migliaia di esuberi anche Unicredit ha subito seguito questa traccia. La differenza tra Unicredit e la sua principale concorrente in Italia, cioè Banca Intesa San Paolo, è quella che Unicredit, almeno dalle voci che circola perché è ancora il piano di essere presentato, si parla soltanto di esuberi e non di riacollocazione di personale in altre sedi. Questo ci dà grandi preoccupazioni. Allora per quello che ho detto anche recentemente in un'intervista televisiva è che occorrerà valutare bene questo piano, ma non soltanto sulla parte delle uscite ma anche sulla parte delle entrate. Mi chiedo se questo Consiglio di Amministrazione, se questo governance sia in grado di affrontare le sfide del futuro e soprattutto mi chiedo se c'è la capacità di affrontarli, in quale modo e soprattutto se i costi devono essere soltanto a carico dei lavoratori e mai a carico di chi ha portato la banca a questa situazione. Termino mandando un appello al Governo. Bisogna che si faccia in fretta per riuscire a trovare una soluzione per il fondo interbancario. Ci sono quattro banche che sono in grande difficoltà e che quindi occorre trovare una soluzione. Non occorrono più queste dichiarazioni del Presidente che hanno causato soltanto spavento sui correntisti, ma occorre che il Governo faccia qualcosa presso la Comunità Europea, presso l'ABC e questi lavoratori, queste banche devono essere salvati. Nessuno sta facendo qualcosa. Credo che questa sia un grave responsabilità che il Governo Renzi e Chepadon hanno in questo momento. Cambiamo ora argomento e parliamo di rinnovo del contratto nazionale Ania. Nel confronto non ha registrato significativi avvicinamenti delle rispettive posizioni. Il negoziato si conferma difficile e complesso, date la diversa impostazione nel trovare soluzioni adeguate alle richieste della piattaforma sindacale. Sentiamo a riguardo il parere del Segretario nazionale Wilka, Renato Pellegrini. La trattativa in Ania ha iniziato a entrare nel vivo di due tematiche fondamentali, l'area contrattuale e i call center. Come è andato il primo incontro? L'aspetto positivo è che abbiamo cominciato veramente a entrare nel merito di alcune questioni. Sul discorso dell'area contrattuale, che è uno dei punti qualificanti della piattaforma, abbiamo però dovuto registrare ancora delle posizioni molto di chiusura da parte dell'Anea. Questo non aiuta il percorso successivo, in particolare sul rafforzamento dell'articolo 2. Noi in sostanza chiediamo che nel caso di affidamento a società esterne di attività di core business assicurativo, queste società applicano il contratto collettivo nazionale assicurativo. Su questo l'Anea ha una posizione molto chiusa, così come sui altri aspetti dell'area contrattuale. Vedremo di proseguire su questo terreno. Per quanto riguarda il call center, noi abbiamo registrato anche qui che se a parole da parte dell'Anea c'è un riconoscimento effettivo dell'evoluzione professionale, della crescita delle lavoratrici, dei lavoratori e del call center, poi quando andiamo nel concreto a proporre una serie di misure tipo l'inserimento in prima parte di queste lavoratrici all'interno di un'area professionale definita, quindi mantenendo le loro specificità, le loro flessibilità, il discorso cambia. L'Anea in buona sostanza ci chiede di introdurre elementi di fungibilità a fronte di un riconoscimento economico limitato, e quindi loro dicono che sia competitivo con quello che c'è intorno al mercato assicurativo. E' la cosa più, dal mio punto di vista, irrazionale, che vorrebbero inserire le fungibilità nel contratto collettivo nazionale, con una norma di questo tipo. Quando sappiamo che la contrattazione va in tutt'altra direzione, anche in altri settori, e tematiche come le fungibilità, le flessibilità, gli orari di lavoro, devono trovare la loro sede elettiva nei contratti integrativi aziendali. Quindi non possiamo blindare un contratto, perché questo, come dire, un contratto collettivo nazionale con norme di questo tipo, perché questo non farebbe neanche l'interesse delle imprese. Quindi vediamo un po' un'Anea in controtendenza rispetto a quello che succede, un'Anea molto chiusa anche su rivendicazioni ideologiche, e direi in controtendenza. I chimici, gli alimentaristi hanno chiuso i contratti in modo pragmatico, in modo serio, secondo le tradizioni delle relazioni sindacali, non cedendo alle suggestioni di Confindustria. Speriamo che anche l'Anea, da questo punto di vista, nel proseguo della trattativa, si muova in questa direzione. Certo, pesa la mancanza al tavolo del secondo gruppo assicurativo Unipolsai. L'auspicio è che nella geopolitica, diciamo, del mercato assicurativo, si trovino le, come dire, le condizioni, perché anche Unipolsai ritorni all'interno dell'associazione, visto che a fine mese, a fine anno, ci dovranno essere grandi cambiamenti e questo sicuramente potrà aiutare lo sviluppo del negoziato. Restiamo in tema di rinnovi contrattuali e passiamo a quello delle banche di credito cooperativo. Il 4 novembre si è svolto a Roma l'attivo unitario dei quadri sindacali che ha deliberato responsabilmente di arrivare a un rinnovo contrattuale ponte in attesa della riforma del sistema di credito cooperativo. Ci spiega i dettagli il segretario nazionale Wilka, Giuseppe Del Vecchio. Il rinnovo del contratto delle banche di credito cooperativo è sempre in una fase di stallo. Federcasse continua a non dare risposte. Il 4 novembre c'è stato l'attivo unitario dei quadri. Che cosa è scaturito da questo incontro? L'elemento della novità è che è scaturito da una dichiarazione alla quotidianità delle 24 ore ieri mattina del presidente dell'Erba dove nella sua comunicazione di proroga della vigenza contrattuale entra anche nel merito delle posizioni di Federcasse. e tra il merito con delle idee un po' confuse e anche contraddittorie dove intendono ancora ribadire di arrivare a un rinnovo entro fine anno ma destrutturando il contratto nazionale di lavoro. Destrutturare significa limitare, quindi abbattere del 30% il costo del lavoro improponibile, mi viene da sorride perché è improponibile addirittura eliminare l'indennità di rischio, eliminare gli automatismi ma addirittura togliere dei diritti riconducibili anche al limite dei trasferimenti. Questo insomma la dice lunga rispetto a quelle che possono essere le possibilità di arrivare a un rinnovo contrattuale. Ma vi è di più perché la contraddizione nelle sue dichiarazioni perché c'è la consapevolezza della parte sindacale non solo della nostra organizzazione, aggiungo, ma di tutte le organizzazioni sindacali così come scaturito proprio nell'attivo unitario del ieri altro dove abbiamo deciso ovviamente responsabilmente di arrivare a un rinnovo contrattuale responsabile ma che sia un rinnovo, come dire, cosiddetto ponte in quanto il sistema sarà travolto lasciarmi passare il termine travolto da quelli che saranno gli effetti della riforma nello stesso sistema del credito cooperativo. Riforma che tarda ad arrivare in quanto il decreto ancora non è stato emanato e pertanto necessariamente noi dobbiamo arrivare al rinnovo. Poi quelli che saranno gli effetti li andremo a verificare. Che cosa significa un rinnovo appunto del contrattuale nazionale? Soprattutto andare ad adeguare i livelli retributivi così come è avvenuto nel resto del sistema del credito. Noi stiamo pagando, tra virgolette, un anche retribuzionale di sotto dei livelli standard rispetto ad Abbi e noi intendiamo arrivare a un rinnovo che possa dare il riequilibrio dei livelli retributivi ma soprattutto anche responsabilmente rafforzare tutti gli ammortizzatori di sistema per eventuali problemi di livelli occupazionali quindi di ricadute sui livelli occupazionali. La provocazione che poi chiude nella dichiarazione lo stesso dell'Erba è che sostanzialmente rispetto alle loro posizioni evidenzia ancora che il sindacato non dà risposte. Questo è una falsità perché le nostre posizioni le abbiamo rappresentate allora e le ribadiremo non appena ci daranno l'opportunità di riprendere le relazioni. Torna il sereno in Monte dei Paschi di Siena risultato netto dei nove mesi a 84,7 milioni di euro conferma il buon andamento della gestione operativa l'azienda ha ripreso un dialogo costruttivo con i sindacati anche rispetto alla futura contrattazione integrativa e sono partiti i lavori della Commissione Paritetica sulle politiche commerciali. Ne abbiamo parlato con la segretaria nazionale Wilka Maria Teresa Ruzza. Monte dei Paschi di Siena è quotidianamente sui giornali i sindacati si sono riuniti per presentare e lavorare sulla piattaforma del contratto integrativo aziendale ci racconti come sta andando? Monte dei Paschi di Siena ha affrontato un periodo molto difficile molto tempestoso e soprattutto sono state burrascose le relazioni con il sindacato. Attualmente stiamo assistendo fortunatamente ad un cambio di rotta il nuovo amministratore delegato, il dottor Viola ha una sensibilità diversa e ha ripreso un dialogo con le organizzazioni sindacali un dialogo costruttivo anche in tema di futura contrattazione integrativa aziendale. Vorrei sottolineare che in Monte dei Paschi la contrattazione integrativa verrà svolta in modo vero seguendo i demandi della contrattazione nazionale partendo dal mantenimento dell'esistente cercando di avere nuove acquisizioni ma soprattutto la cosa importante è che questa è un po' una vittoria della linea delle segreterie nazionali che fortemente hanno voluto mantenere e rafforzare il contratto nazionale e solo con un contratto nazionale forte si può pensare di realizzare una contrattazione integrativa vera degna di questo nome com'è nella tradizione del mondo del credito. I Monte Paschi stanno infatti ragionando sulle possibilità con questa nuova sensibilità sia dell'amministratore delegato sia anche del nuovo presidente perché c'è comunque un'attenzione anche alla responsabilità sociale d'impresa al dialogo fra le parti sociali che precedentemente non si era verificata. In questa azienda è nata una commissione molto importante paritetica sulle pressioni commerciali tema scottante in tutte le banche. Che cosa stanno facendo loro? È una cosa particolarmente innovativa perché se noi pensiamo che dal protocollo del 2004 quello sulle sostenibilità e compatibilità della responsabilità sociale d'impresa nelle aziende abbiamo trovato dei momenti di incontro di tipo teorico sulla centralità delle risorse umane sulla necessità di pressioni commerciali che vengano più umane però è la prima volta in questa azienda che si realizza una commissione paritetica che non solo condivide i valori portanti ma che è disponibile ad affrontare concretamente i problemi. C'è stato già un incontro il 4 di novembre in cui sono stati affrontati i problemi reali che sono ad esempio le distorte comunicazioni le pressioni commerciali in debite i cosiddetti tornei che sono un aspetto particolarmente umiliante per i lavoratori i budget che vengono assegnati senza considerazione del mercato di riferimento o della dimensione delle realtà operative. Per la prima volta si sono affrontati questi problemi in senso concreto e operativo e l'azienda si è impegnata a dare delle risposte. Il secondo incontro sarà nel mese di dicembre e quindi si valuterà effettivamente che cosa è stato realizzato. Ecco, è importante questa commissione perché è la prima volta nel mondo del credito che si passa dalla condivisione di principi generali ad una fase concreta ed operativa e credo che questa commissione possa essere anche un esempio modello di riferimento per altre aziende di credito. La trasformazione di Veneto Banca in SPA passa attraverso il piano industriale 2015-2020 presentato ad ottobre ai sindacati. La Wilka, nonostante sia preoccupata per la chiusura di 130 sportelli e i 430 esuberi dichiarati vuole sottolineare l'atteggiamento positivo del nuovo amministratore delegato Cristiano Carrus che si è detto consapevole del disagio dei lavoratori e ha dichiarato che non farà operazioni di sinergie di corso che sfocino in macelleria sociale. Ci racconta nello specifico la segretaria nazionale Wilka Paola Minzon. In Veneto Banca è stato presentato un nuovo piano industriale. Ci racconti in che cosa consiste? Certo. Allora, innanzitutto voglio raccontarvi cosa ne pensano le organizzazioni sindacali e cosa ne pensa la Wilka di questo piano industriale perché poi i dati li trovate da altre fonti. Vi ricordo però che Veneto Banca ha fatto un piano industriale a 5 anni un piano industriale che prevede una posizione in stand-alone che prevede una calendarizzazione dove a dicembre fa la trasformazione in SPA a gennaio fa la quotazione in borsa e ad aprile faranno l'aumento di capitale di un miliardo che serve alla banca per stabilizzarsi. Quindi ecco detto questo il piano industriale prevede anche il ritorno all'utile nel 2016 e prevede, ahimè, la chiusura di 130 sportelli e 430 esuberi che però erano già stati annunciati nei mesi scorsi da Veneto Banca quindi non sono stati una sorpresa. Quello che però voglio sottolineare a tutti è come si è comportato l'amministratore delegato nel corso di questo incontro perché lui ha assolutamente sottolineato il grande disagio dei nostri lavoratori il grande stato di difficoltà quindi ha invitato le organizzazioni sindacali a presidiare il territorio per evitare pressioni commerciali sbagliate e per evitare che i gestori lavorino a cottimo noi accogliamo volentieri l'invito dell'amministratore delegato e poi ci ha invitato a mostrarci responsabili ed equilibrati al lato dell'apertura delle procedure che noi aspettiamo nei prossimi giorni ha parlato altresì di voler sanare in qualche modo quelli che sono i vecchi soci danneggiati quindi di voler riparare un po' a quello che di male è stato fatto sul tessuto sociale e infine la UICA ha chiesto all'amministratore delegato con parole molto chiare di mantenere quella che è la sua promessa lui ci ha detto, ve la riporto chiaramente ci ha detto che mai e poi mai farà operazioni di sinergia e di costo che sfociano in macelleria sociale io credo che questo sia molto importante da rilevare e da parte nostra dicevo abbiamo chiesto di procedere con celerità a quella che è una contrattazione di secondo livello per i nostri lavoratori che evidentemente sono veramente provati da questa situazione quindi provvedendo al rinnovo del contratto integrativo aziendale che scade al 31-12-2015 e di porre grande attenzione a quella che è la contrattualizzazione delle figure professionali che rivengono dal nuovo modello organizzativo a Bespoke che molto ci preoccupa per i rischi in capo ai lavoratori che ha portato su tutto il nostro sistema bancario quindi cosa dirvi un grande augurio a Veneto Banca e un grande augurio soprattutto ai nostri lavoratori di ritrovare una serenità che è stata persa in questa banca dal 21 al 23 ottobre scorso si sono svolte ad Antaglia in Turchia le conferenze di Uni, Europa Finance e Uni Finance Global tra i temi principali discussi la digitalizzazione parola chiave del cambiamento per i lavoratori e il nuovo lavoro entro i prossimi anni e la chiara e forte strategia delle imprese di attacco alla contrattazione collettiva nazionale dal sindacato al termine delle due conferenze è stato eletto nel Comitato Esecutivo Mondiale il Segretario Nazionale di Wilka Renato Pellegrini sentiamo la sua testimonianza il 23 ottobre sei stato nominato nell'Esecutivo Mondiale di Uni Finance quale sarà la politica della Wilka a livello internazionale? intanto Antaglia è stata una bellissima esperienza il congresso mondiale di Uni Finance che è il network a cui aderiamo anche noi e che rappresenta più di 3 milioni di lavoratori e circa 240 sindacati nazionali è stato il momento in cui si è discusso di tematiche emergenti cruciali per tutto il settore finanziario una fra tutte la rivoluzione digitale sono stati interventi di economisti di esperti che ci rappresentano un quadro molto molto preoccupante se non riusciremo a governare i cambiamenti della rivoluzione digitale le prospettive sono un calo occupazionale pesantissimo in tutto il mondo in tutto il settore della finanza sono stati affrontati argomenti importanti sotto lo slogan freedom from fears cioè libertà dalla paura il clima pesante che si sta registrando in tutto il mondo di attacco ai diritti alle tutele ma anche al ruolo stesso del sindacato dal Regno Unito alla Turchia alla Spagna passando anche per l'Italia per una serie di ragioni l'Unifinance intende avviare da questo punto di vista una mobilitazione generale a difesa e tutela dei diritti altro argomento importante è stato il sostegno ai sindacati che stanno crescendo nei paesi dell'ex est europeo e quindi in questo senso anche il ruolo dei CAE la negoziazione transnazionale interessante è stato il panel in cui la collega Cuciniello ha presentato le strategie di Grupa Ma lei è del segretario aggiunto del CAE di Grupa Ma le strategie di Grupa Ma a sostegno dei sindacati e dei lavoratori di Grupa Ma nei paesi dell'est insomma tante tematiche tutte importanti il congresso ha come dire registrato con una grande emozione con un applauso corale l'uscita di E.D. Ozia che è stato uno dei protagonisti e che lascia per termine mandato questo incarico ed è stato anche questo momento molto bello credo che Wilka dovrà sempre di più come del resto sostiene il nostro segretario generale Barbagallo per tutti i sindacati della Wil avere una visione anche europea internazionale globale e in questo senso credo che ci sono tutte le premesse le energie e l'impegno della nostra organizzazione per continuare a giocare un ruolo importante in questa dimensione globale del sindacato della finanza e con la firma di due importanti accordi si è conclusa con soddisfazione la procedura di ristrutturazione e riorganizzazione di banca popolare etica con il primo accordo si è dato via ad un percorso negoziale che vuole puntare a ricercare soluzioni contrattuali idonee a rappresentare le necessità delle lavoratrici e dei lavoratori e di valori di questa azienda con il secondo accordo è stato affrontato il tema della mobilità e professionalità partendo dalla specificità di un'azienda di medio piccole dimensioni presente nell'intero territorio nazionale introducendo in via sperimentale il lavoro flessibile con compensazioni che valorizzino la qualità della vita e il welfare la segretaria generale della Wilka della regione Veneto Luisa Querenghi che ha partecipato alle trattative esprime estrema soddisfazione definendo questi accordi come l'inizio di un cambiamento storico ed era questa l'ultima notizia noi come sempre vi ringraziamo per la gentile attenzione e vi rimandiamo ai prossimi appuntamenti con l'ombortigì della Wilka nazionale arrivederci grazie a tutti